Ciao a tutti, sono Giuseppe Morelli, organizzatore della Gipgrana Ostonese, prima volta notturna, prima volta sul calendario ostonese degli eventi. Solo un ringraziamento a tutti, prima il nostro sindaco Gianfranco Coppola, tutti i nostri aiutanti e concorrenti avvenuti da tutti i paesi limiti. Un ringraziamento a tutti i miei aiutanti, Antonio Nisi, la mia ragazza Maria Antonetta, Italo Argentiero, il nostro tuttofare, il nostro presidente Rocco Argentiero, i nostri ragazzi aiutanti materiali, Tonino, Francesco, Giordano, se sto dimenticando qualcuno, tutto qua. Ringrazio la rappresentanza del pubblico e che dire, all'anno prossimo.